Ciao ragazzi, calendario Essence, 10 dicembre Come sono carine, abbiamo le perline da mettere sulle unghie Quanto sono carine, solo che queste di sicuro appena ti metti a fare qualche lavoretto poi dopo si staccano tutte Ma perché queste cose qua le mettete solo a Natale non potete anche metterle nell'espositore della Essence, così io me le compro E con questo è tutto, ciao a domani